Le famiglie vivono tutte, viviamo tutte con la paura dello sgombero, però siamo anche determinati a resistere perché non c'è alternativa. Lo vediamo anche in questi giorni con lo sgombero di Cardinal Capranica, quelle poche famiglie che hanno accettato di andare nei centri d'accoglienza, si sono ritrovati assaliti da cimici, da pulci, da scarafaggi e noi a questo ci opponiamo perché noi non siamo miserabili, noi facciamo parte di quel popolo che lavora, che non si potrà mai permettere un affitto. Quindi noi cercheremo di resistere, noi cercheremo in tutti i modi di trattare perché noi in quelle condizioni non ci andiamo a vivere, sia ben chiaro. E perché qui al netto dell'occupazione comunque non c'è criminalità? No, perché appunto chi abita nelle occupazioni sono tutte famiglie, tutta gente che si pagava l'affitto fino a qualche anno fa. Quindi nelle occupazioni si vive una vita di condominio, delinquere che vuol dire, cioè noi delinquiamo che siamo qui dentro, che ci siamo appropriati di un tetto sulla testa per non vivere di barbonaggio. Quanti siete in questo condominio? Siamo 140 nuclei, 380-400 persone circa, 80 bambini, quasi tutti minori. Non è che noi stiamo qui e non vogliamo assolutamente uscire, però sia ben chiaro che noi non ci sentiamo illegali. Il legale è chi ha provocato tutto questo, il legale è chi non ha più dato le case popolari. La nostra è un diritto alla casa popolare. Noi stiamo facendo la lotta per la casa popolare, quindi abbiamo diritto ad essere rispettati, non ad essere assediati, non ad essere circondati dalla polizia. Noi non siamo assolutamente delinquenti.